vuoi proprio andartene ti ho fatto male lasciami andare era tanto che desideravo conoscere dimitri caramazzo anche se non così vieni vediamo il nostro incontro dimitri la mia vestaglia che c'è vassili vassilievici niente passavo buonasera non guardare chi c'è fra te e mio padre? niente io non sono ricca lui mi ha aiutato in qualche faruccio e quando abbia chiesto della cambiale non ho potuto dirgli di no ma volevi farmi ripartire subito? non ti conoscevo ma ora ho cambiato idea non preoccuparti la cambiale non tornerà in mano di tuo padre padrone che vuoi? c'è un... scusa Fiodor Pavlovici vi scongiura di non farlo più soffrire perché non andate da lui? potrei condurvi io stesso o qui sotto la vettura fila bentornato dimitri Fiodrovici se ti vedo ancora da queste parti io ti rompo l'osso del conno via che vuoi fare? no no pazzo ma scalzone non sei ancora il mio padrone non lo sarei mai hai capito? io ricevo regali da chi mi pare e piace tu da mio padre non ci andrai? io faccio quello che mi pare e se ne ho voglia vado anche da tuo padre hai capito? anche da tuo padre vada tu non mi conosci? andiamo Mitio come puoi pensare che vado veramente da quel brutto vecchio? tu non gli rassomigli il signore ha le ragazze mia merette domandava se il signor mi picchierà i miei baci non avrà aspetta 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 aspetta